Massimo Cialente, si rinnova l'impegno dei socialisti riformisti, una lista che dall'inizio è stata fedele e continua ad esserlo per queste amministrative? Sì, innanzitutto devo dire che, come ricordava lei, si è trattato di un gruppo molto forte, molto coeso e molto aderente al programma di mandato. Il gruppo è fedele al programma di mandato, è stato uno dei pilastri della maggioranza che, ricordo, ha provato cose anche importantissime quando il centrodestra cercava di farle saltare. Lei pensa a alcuni passaggi decisivi, l'acquisto di piazza d'armi, che è un fatto rivoluzionario, la varietà del senso ed uso per avere 20 milioni dell'ene per il grande dono all'università e così via. Noi abbiamo lavorato, mentre il centrodestra, soprattutto guidato all'MPA, cercava di far mancare i numeri locali per fare il rispetto alla città. Sono molto contento perché è una lista molto forte e io ritengo che avrà un successo importante e soprattutto, come tutte le altre liste che abbiamo cercato di fare, sono liste di persone che hanno competenze, quindi saperi da mettere a disposizione in questo compito difficilissimo che sarà delineare la città del futuro, hanno passione perché guardi, o hai passione oppure la politica è meglio che non la fai, perché la fai male e fai anche guai. Poi soprattutto, io credo sia costituita anche da alcune presenze di persone molto esperte e altre persone giovani, sono molto fiducioso. Marco Fanfani, assessore uscente, capolista dei socialisti riformisti, un impegno che viene confermato all'affianco del sindaco Massimo Cialente. Sì, abbiamo lavorato, abbiamo lavorato proficuamente, certamente ci sono stati momenti di grande difficoltà e vorrei sfidare chiunque altro a essersi trovati nelle nostre situazioni. Gli impegni che abbiamo di fronte sono degli impegni enormi perché sono gli impegni naturalmente della ripresa produttiva, del lavoro soprattutto e quindi del recupero del reddito da parte di questa città che se non avrà questo balzo non riuscirà naturalmente a riprendere davvero. Gianni Padovani, consigliere comune all'uscente, candidato con i socialisti riformisti, un impegno che si rinnova? Sì, certamente. Ho deciso di ricandidarmi perché penso che comunque in questi anni abbiamo fatto il possibile per questa città e quindi vogliamo insieme a tutta la nostra lista continuare a fare il possibile per la nostra città.